io mi sono fatto già un lime coca cola quella alla frangola è buona grazie sergio toni e limone limone toni come no dai te ne do due dai chi era quello che stava dall'altro lato signori nicola è lui l'eroe che ci ha regalato applauso applauso grazie grazie moschia gli fa causa la birra pure la corona ma dove l'avete provata? che salutisti i maledetti vi faccio i maledetti che siete allo frutta tu non ti deve mangiare non lo so non lo so ma applauso si faccio la salata Oh, aspettate che voi vanno a ricchiappata, eh, lo prendo. Sto vedendo quello là in stufa. Ma non è andato. C'è addirittura sull'interattivo, l'interattivo di Sky in 5, c'è il servizio. No, ma la Roma fa ultimare. Voglio vivere, voglio sopravvivere. Non so come fanno a gestire tutte e due le cose, francamente. Sia la birra che i crisi insieme. No, mi chiedo, come fanno a gestire tutte e due le cose? Sai che ci provo? Prova, guarda che... La birra è più notevole. Io ho previsto la birra. Che magari in sequenza funzionale... Eh, scusa. Andrea, ma com'è che hai lì come birra? È una merda. Ma che schifo. È una merda. È una merda. Ognuno l'ha in belezza. L'ha in belezza. L'ha in belezza, è troppo. È proprio una merda. È una merda. È una merda. È una merda. È una merda. Califfi.